Era una battuta, uno scherzo, umorismo inglese. Bene, il signor Mani di pasta frolla in persona. Come ci si sente a farsi scivolare dalle dita la possibilità di ritornare? Salve anche a te, Brontolone. Digli di stare calmo. La lista continua ad allungarsi. Ah, ci si rivede, bella bionda. Sono pronto a tutto per le persone che amo. Stringerle la mano, scambiarci convenevoli. Classico approccio preliminare, se vuoi conoscere. Magari un bel tipo tutto d'un pezzo di una confraternita. Chance o Brock. La tua ragazza è misteriosamente scomparsa. Sa quanto sei insopportabile? Magari è per questo che non l'hai trovata. Lei non vuole essere trovata. Io non l'ho trovata a causa dei viaggiatori, cioè la mia unica pista, che hanno deciso di divertirsi dandosi fuoco prima di darmi quello che mi avevano promesso. Già? Sarai invidioso del mio fascino. O forse perché gli ho ucciso la fidanzata. Sì. Questa lista si allunga in modo davvero imbarazzante. Se è lì va a fare l'incantesimo, non riportare indietro il suo fratello sarebbe soltanto... Furbo, saggio, sorpresa, sono ancora qui. Vi piaccio? Mi hai messo a K.O. e mi offri del ghiaccio. Ma che problemi hai? Ciao, splendore. Non sei un vero fratello. I fratelli non si arrendono mai. Aspetta, che... che tipo di visione? Sai cosa non ti sta dicendo? Che le visioni sono sogni erotici. L'uomo capace di mandare in tilta la tua bussola morale, se non indica l'ubicazione di Stefan entro l'ora del lupo mannaro... E' un uomo morto. Fesmatos! Ossox! Oh! Non parlare del fatto che Elena era innamorata di Demon o mi ucciderai. Numero due, non citare in nessun caso Demon o mi ucciderai. Esatto. Numero tre, ricordati la crema solare e... Non prenderti gioco di... Menzionare il nome di chi? Elena! Fa come vuoi. Stai dicendo qualcosa? È difficile da capire con tutto quel sangue. Ah, ha detto... È sangue o marmellata? Fa che sia marmellata. Eh, dovrebbe essere... Shirley. Una pietanza speciale fuori dal menù. Questo, questo... In cambio della mia protezione, che comprende vitto e alloggio, farai qualche ricerca per me, ragazza del college. Dà un'occhiata a questi e... Puoi evitare la postura minacciosa. Porta una denuncia di scomparsa che comporta un'indagine... Un'indagine dello sceriffo? Ah, che paura. Ho già ricevuto tre richiami, mi farà una multa. Non ti lascerò morire, Bonnie Bennett. Hai la mia parola. Qualunque sia il tempo che mi resta, voglio passarlo con te. Qui. Torna da me. Sei tornato. L'ho sempre fatto. Parli dell'avventura e dell'eccitazione che ti ho fatto vivere tra queste quattro mura. Ha funzionato per la bella e la bestia? In fondo, non sei male come bestia. Dimentica questo momento e ricorda tutti gli altri. Capodanno, lo champagne. Ricorda che sei negata con la chitarra e che non sei migliorata, malgrado io ti abbia detto che lo eri. Ricorda che ho trascorso più di un secolo nella pena e nella solitudine prima di trovare te. E poi ho vissuto tre fantastici anni d'amore. Ti amo. Ti amo anch'io, Enzo.